E prima ancora che Gagarin fosse il nostro padre. Questi qua hanno le registrazioni di respiri e voci anche di una persona che sta morendo. E la cosa incredibile è che c'è una teoria in Italia. E la Cia ha fatto sentire quello che volevano e non sentimano di fatto lo scuso. E la Cia ha fatto sentire quello che volevano e non sentimano di fatto lo scuso. E l'idea che voglio raccontare questa storia di questi romani e vedere a Washington se ci sono documenti dei segretati della Cia. Perché sono passati oltre 50 anni in generi che americani... Non, non, di segretati. Ah, ok. Perché sono passati 50 anni e americani, come conosco, spesso 50 anni si pensi a un documentario, a un personaggio, pensi a questo. Però ci sono sicuramente tantissimi noomi, tantissimi artisti. Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie. 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 Grazie.